Buonasera. Penso che abbiamo cominciato molto bene, i primi 15 minuti, poi abbiamo commesso due o tre passaggi veramente sbagliati male, dove c'era sensazione di pericolo. Alla fine penso che Cordas veramente non ha avuto nessun intervento, il salvataggio così vuol dire che la difesa ha tenuto molto bene. Poi dopo con il 10 comunque non mi ricordo di occasione di Perugia, siamo stati messi bene in campo, i giocatori hanno dato veramente tutto, hanno corso tanto, grande concentrazione, sicuramente un pareggio così con 10 uomini per 60 minuti vale doppio. Un risultato importante quindi frutto del cuore della squadra anche oltre che degli aspetti diciamo d'anzi? Ma è una cosa importante, importantissima vuol dire che se non hai quello non vai lontano, penso che oggi i ragazzi sia quelli che hanno giocato da inizio, quelli che sono entrati hanno dato veramente tanto e ce la sono meritata a questo punto. Non è facile contro Perugia giocare con 60 minuti con 10 e non subire molto, per cui veramente sono stati splendidi. Se si aspettava questa partita? No, mi vedevo le ruole caratteristiche che giocano molto diretto diciamo, che cercano subito attaccanti, là devi essere bravo di giocare in anticipo, di non permettere questi passaggi diretti verso attaccanti loro e si riesci poi controlli bene la partita, si subisci lasci qualcosa. Però mi dispiace non aver giocato tutta la partita con 11 perché sono convinto che man mano andava la partita potevamo fare male a Perugia. Quindi quanto darebbe alla sua squadra in termini di voto? No, oggi un per 7, un punto così va benissimo.